Amici, guardate, adesso i pesci quanto grossi sono diventati, andiamo a solito mangiare, erano piccolini. Crescono anche loro, qui vedete i pesci appena acquistati, era agosto come adesso, avevo appena finito di costruire l'acquario, e questi erano i pesciolini presi al mercato della zona, guardate che piccoli che erano, stavano sul fondo, tranquilli, piccolini. E adesso, guardate che grandi, esattamente un anno dopo, insieme ai pesci guppi, quelli che sono nati qua nel laghetto, guardate che grandi, sono tante femmine, si vedono e loro partoriscono e si moltiplicano sempre di più, anche qui dentro, insieme ai pesci rossi. all'interno상 all'interno all'interno Grazie a tutti. 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 Tutti crescono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.